Per l'Atletica si apre domani un weekend ricco di gare ad Ancona, torna al Pala Indoor dopo sette mesi di stop per infortunio la primatista del salto in lungo, Larissa Iapichino. Yuri Bogogna Oltre mille atleti in gara è un nome su tutti, quello di Larissa Iapichino. La stagione dell'Atletica Indoor entra nel vivo. Nella due giorni al Pala Indoor di Ancona il momento da segnare è sabato pomeriggio ore 16 e 15, pedana del salto in lungo. Torna a saltare la primatista italiana e mondiale Juniors, figlia di Fiona May, qui su quella stessa pedana dove ha conquistato i suoi record. Era il febbraio 2021 un salto da 6,91 per eguagliare la misura della madre e andare in vetta alle classifiche di specialità. La 19enne Fiorentina aveva salutato poi le gare a Rovereto nel giugno scorso, infortunio al piede di stacco, addio alle Olimpiadi di Tokyo e sette mesi di riabilitazione, seguita dal suo nuovo allenatore, il padre Gianni, ex saltatore con l'asta. Quello di Ancona è il primo test stagionale in vista dei campionati assoluti indoor e soprattutto dei mondiali al coperto, a marzo, a Belgrado. Sarà però una gara per pochi, la capienza del Pala Indoor è al 35%, l'ingresso solo con Green Pass rafforzato. Oltre al lungo nel weekend non mancano altre gare da seguire, Simone Barontini sui 400 metri sabato e poi domenica pomeriggio la sfida nel lungo maschile con almeno 4 atleti da 8 metri.